Siamo con il mister Domenico Toscano al termine di Ferralpissalò Ravenna a 0-1, una traversa nel primo tempo, diverse occasioni a inizio della ripresa però troppo poco non siete riusciti a sbloccare la gara, il Ravenna ha fatto un tiro, poche azioni da gol e ha portato a casa la partita. Sì ma questa è la caratteristica del Ravenna, noi potevamo fare qualcosa in più, potevamo andare in vantaggio con Voltan, il secondo tempo abbiamo fatto 20 minuti importanti dove potevamo sbloccare il risultato e magari la partita si sarebbe incanalata su binari diversi, c'è mancata qualcosa per portare a casa il risultato che era importante per noi oggi però è un percorso che dobbiamo fare per poter crescere, che ben venga, prendiamo l'aspetto positivo della sconfitta che ci deve non scivolare addosso ma che si deve sentire perché Domenico ci aspetta un'altra partita importante che ho bisogno di vedere la reazione della squadra.